direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 24 ottobre il jackpot ha raggiunto la cifra di 21 milioni 520 mila 145 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora al via l'estrazione del concorso numero 169 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero giolli tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 7 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 23 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 31 pronti per il quarto numero quarto numero estratto è il numero 29 e adesso scopriamo il quinto numero che poi porta le grandi vincite quinto numero estratto è il numero 21 è il momento di incrociare le dita usciamo per completare la sestina vincente sesto numero estratto è il numero 28 dopo questi numeri che segnerò il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potete realizzare la grande vincita del 5 di 1 numero jolly di questa sera è il numero 20 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 7 23 31 29 21 28 numero jolly 20 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre super star moltiplica le vincite super una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? numero superstar di questa sera è il numero 66 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 169 con la sestina vincente in ordine crescente 7 21 23 28 29 31 numero jolly 20 superstar 66 l'estrazione di oggi giovedì 24 ottobre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot è di oltre 21 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 169 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 466.162 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 21 milioni 500 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 22 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 13 e vincono 12.977 euro ciascuno i 4 sono 1.187 e vincono 144 euro ciascuno i 3 sono 34.044 e vincono 15 euro ciascuno i 2 sono 398.874 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 222.071 vincite immediate Winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi Superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 14.431 euro ciascuno i 3 stella sono 120 e vincono 1517 euro ciascuno 100 euro vanno i 1.690 2 stella 10 euro i 9.907 1 stella e 5 euro i 20.323 0 stella inoltre 96 vincite da 50 euro ciascuna e 14.494 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Superanalotto verifica vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiore informazione consultate il sito superanalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Superanalotto vi da appuntamento a domani venerdì 25 ottobre giocheremo per un jackpot di 22.100.000 euro arrivederci ciao 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 Grazie a tutti.